Siamo giunti alla disperazione, anzi forse non abbiamo più neanche quella, è per quello che ci siamo fermati, fermarsi per non dover morire. Per quanto? Ad oltranza, per noi è ad oltranza, io non vedo nessuna volontà di creare un dialogo o uno sblocco. Ecco ci sono delle richieste precise per il governo? No, non ci sono richieste precise, le richieste precise sono abbiamo un governo delegittimato, abbiamo un governo che fa quello che vuole senza rispettare i cittadini, nemmeno lei, ne voi, ne nessuno. Si sta comportando come una dittatura, in posizioni, sempre, ce lo impone l'Europa, ma se questa Europa ci impone quello che noi non possiamo essere, usciamo da questa Europa. Io non sono contro l'euro, non sono contro queste cose, sono contro un'Europa che non è l'Europa dei cittadini, è un'Europa delle banche, è esclusivamente questo servizio. Ieri sono tutti il giorno bloccati, da mattina alle 8.30 hanno bloccato tutto. Sì, si sa, hanno detto qualcosa quando vanno via, nel momento niente, niente, perché sono facendo, diciamo, un blocceggio d'oltraneo, certo, prego. Grazie. 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 Grazie.